Ed eccoci arrivati in diretta. Ciao Antonella, buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori, buonasera al nostro ospite, il dottor Mozzi. Attesissimo, ogni volta diventa un evento che noi pubblicizziamo con piacere ma che con una sorta di passaparola veramente mette in fibrillazione i nostri telespettatori. E come dicevamo, come diceva Giada, siamo veramente in diretta. Se tu hai un orologio a puntino possiamo dire anche che siamo rispetto alla tabella di marcia in ritardo di qualche minuto. Comunque sono le 20 e quasi 20 e 40. 20 e 40 adesso. Allora, come potete capire la puntata è molto densa di argomenti ma soprattutto parleremo di cibi. E allora io direi, tentiamo una definizione di questo medico perché tutte le volte mi chiedono, ma è un medico? Dottor Mozzi, innanzitutto è medico medico, regolarmente laureato e con studi classici alle spalle, giusto? Sì, sì, sì. E poi guardi, proprio pochi minuti fa, per l'esattezza un'ora fa, una persona molto intelligente che io stimo, che ci segue da Busseto, l'ha definita in una maniera abbastanza originale. Un simpatico terrorista. Terrorista. Terrorista perché? Ma no, terrorista è chi fa del grande male, terrorista è chi fa saltare per aria, ma invece chi informa, chi avvisa dei pericoli, chi vede un po' più avanti, non è un terrorista. E' uno che dà un grande aiuto. Cassandra è sempre stata considerata una persona che portava sfortuna, che portava malanno. Cassandra era una persona che aveva una dote incredibile. Riusciva a vedere oltre, oltre a quelli che non vedevano. Vedere oltre a volte è molto pericoloso, no? E' difficile. E soprattutto non è mai riconosciuto. E' difficile. Mi ricordo una definizione che c'era quando facevo l'università, non so più dove l'ho letta e non so più chi l'avesse scritta. Diceva, quando sei in un incontro, in una riunione, in un'assemblea, se c'è una persona che capisce cinque minuti prima degli altri, determinate cose, determinate cose, determinati concetti, e poi dopo cinque minuti ci arrivano tutti, ma per quei cinque minuti quello passa per essere una bestia rara. Sì, bestia rara non era il termine esatto, era un altro concetto. Quindi, la situazione è quella. No, no, non terrorista assolutamente, anzi, la cosa che mi sta più a cuore di tutto, e penso che sta più a cuore ancora addirittura del mio bene personale, della mia salute personale, è il benessere e la salute delle persone. Io penso, dottor Motrichi, che il termine simpatico terrorista sia legato in modo molto bonario proprio al fatto che lei rompe vecchie tradizioni, vecchie abitudini, un certo vissuto che appartiene a tutti noi, no? Per cui, noi abbiamo sentito, i telespettatori l'hanno sentito da Giada, il dire, ecco, tu mangi il pane, mangi a tanti bambini, quanto ha detto, mangio il pane che il pane fa bene, eccetera, no? Fa sangue. Rompere queste cose può essere tacciato, tra virgolette ovviamente, di terrorista simpatico, e questo lo sottolineiamo, però a questo livello, no? Soprattutto, magari alcune affermazioni possono avere un effetto dirompente, ma pensiamo quanto invece possono essere dirompenti certe abitudini alimentari. Io partirei proprio dall'attualità. Un'inchiesta portata avanti da un settimanale che per me, Gianni, è un po' anche un punto del nostro lavoro, del panorama, non ho difficoltà a dirlo. Praticamente ci mettono in guardia e ci dicono, attenzione, le cavie siamo noi. Siccome anche noi italiani, come la maggior parte delle popolazioni benestanti, amiamo curarci con i farmaci, e quindi ad ogni sintomo abbiamo subito pronto il rimedio farmacologico, ci dicono che non possiamo poi dormire tanti sogni tranquilli, perché ad esempio, tra le grandissime novità della medicina e della chirurgia, ci sono ad esempio questi stent che molti di voi magari hanno nel loro corpo per tenere aperte le arterie. Pare che gli stent medicati, che sono poi all'avanguardia, rappresentino invece un grande pericolo di trombosi a distanza di qualche mese o di qualche anno. Ecco, allora, la teoria di questa inchiesta è che talvolta si fa più del male che del bene, o perlomeno si fa del bene alle case farmaceutiche, che da un punto di vista dei guadagni, che sono veramente notevoli, pensate che sono multinazionali, quindi sapete che numeri si fanno nel mondo, ma sulla nostra salute però ci si scherza troppo facilmente. Allora, partendo proprio dal discorso stagionale, siamo in inverno, migliaia di persone stanno pensando come affronteggiare certe malattie che possono essere anche piuttosto sterie. L'anno scorso eravamo alle prese con l'influenza aviaria, doveva essere una pandemia, non so fino a che punto vera o montata, e quindi i vaccini, gli antivirali, sono molto ben veicolati in questo periodo. Che ne pensate? Ah, certamente. Per aprire il ghiaccio un po'. Abbiamo pubblicità, tutto spiano dei vaccini, hanno già detto, abbiamo già isolato il virus, a Milano due casi isolati. Mi sembra un tempo temporizzato. Fate il vaccino che arriverà, quest'anno sarà più serio dell'anno scorso, sempre così, sarà più serio, i milioni di persone colpite saranno tozzi per l'anno scorso. No, assolutamente. Bisogna essere seri, dire alle persone che i virus dell'influenza non si combattono così, con i vaccini, ma si combattono. Tanto i virus ci sono e le persone che poi si vaccinano rischiano di fare l'influenza lo stesso tre, quattro, addirittura cinque volte, come mi è capitato di trovare persone. Ma si combattono fortificando le proprie difese immunitarie. Oramai il gioco della salute è lì, abbattere il meno possibile le proprie difese immunitarie. Questo nostro grande equilibrio, quello che ci protegge, che ci preserva dal contatto con gli altri organismi viventi, che anche loro fanno il loro gioco di vivere. Cercano anche loro di vivere, di riprodursi. La storia dell'umanità e del mondo e del pianeta è proprio il grande equilibrio di tutti gli esseri viventi che in sintonia si riproducono per andare avanti in equilibrio. Noi veniamo da una generazione che ha avuto un consumo eccessivo di antibiotici, per cui penso che anche questo abbia inciso su una carenza di autodifesa dell'organismo. Noi, perché noi per fortuna siamo nati in un'epoca che non c'erano gli antibiotici. E no, ma anche quelli che adesso hanno 35-40 anni, sono tutti più deboli per questo. Quindi le nuove generazioni sono più deboli rispetto a noi. No, guardate, le previsioni, e ci sono, solamente che questi messaggi non passano nei TG o non passano nelle trasmissioni di punta, porta a porta, tanto per dire o qualco, via dicendo. Le previsioni sono che le prossime generazioni spariranno prima dei loro genitori. E i segnali ci sono, perché ci sono malattie degenerative, malattie proprio cosiddette autoimmuni, malattie di cui non c'è assolutamente la conoscenza, la causa, non si sa nulla. Sono in grandissima espansione, il diabete abbiamo, domenica scorsa era la giornata nazionale del diabete, il sabato e domenica. Siamo sopra i 3 milioni, ma vi rendete conto? Sono centinaia di milioni nel mondo. Questa settimana una famiglia mi ha portato una bambina di due anni, diabetica, e che le persone che l'avevano presa in cura, le avevano consigliato di mangiare 5 volte al giorno, 5 volte al giorno, il pane o la pasta, addirittura i biscotti, quei famosissimi biscotti, quelli dell'omino muscoloso che picchia il martello, che sono strapieni di glutine, che sono la causa della distruzione del pancreas. Quindi siamo già, esatto, quindi siamo proprio già al punto caldo della questione, quindi noi ci possiamo difendere o avvelenare attraverso il cibo, il cibo quotidiano. È questo che lei ci sta dicendo. Siamo a un punto di svolta, ci stiamo avvicinando, dove oramai le nuove generazioni sono debolissime, perché non c'è più stata la selezione naturale, dove vengono tenuti in vita tutti quanti, dove si va a procreare tutti quanti. Cosa che contrasta con la grande, grandissima legge, la più importante legge della natura, che è la legge della selezione naturale. Se noi siamo su questo pianeta nel 2006 dopo Cristo, dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno preceduto nei millenni precedenti, nei secoli precedenti, secoli in cui era vigente questa grande, grandissima legge. E' un discorso complesso, è un discorso difficile, che può portare lontano, ma la cosa importante è capire che in ogni problema, in ogni malattia c'è una causa. Se non si capisce questa causa, è inutile prendere dei provvedimenti, come per le malattie invernali, chiamiamole così, in cui comprendiamo tutti, dai semplici raffreddori, sinusiti, tossicataro, bronchiti, otitti, broncopolmoniche. C'è una causa, e la causa non sono i virus o i batteri, sono le nostre difese immunitarie indebolite quotidianamente da sostanze che il nostro sistema immunitario non tollera. E' come un proprio scalpellare le colonne portanti del nostro sistema immunitario. Dottor Mozi, lei ha aggiunto una cosa, perché è in dubbio, questo ce lo dobbiamo dire, oggi si vive di più. Si vive? Si vive di più, nel senso che l'età media è aumentata, questo è un dato incontrovertibile. Però lei ha aggiunto una cosa che effettivamente fa pensare. No. No, noi siamo arrivati probabilmente, cerco di capire meglio quello che ha detto lei, poi magari mi corregge, siamo arrivati forse a un massimo per cui c'è questo incremento della vita, ma poi per le generazioni future sembra che ci sia un qualche cosa che forse non andrà, a meno che non si sia costantemente aiutati. Noi non abbiamo allungato un bel niente, chi ha allungato la vita sono state determinate condizioni fondamentali. Primo, chi ha allungato la vita sono quelli nati all'inizio del 1900, non noi, nati dopo, si vedrà. I conti bisogna tirarli alla fine. Questo è un dato importante. Sì, perché ora si canta vittoria, ma la vittoria la devono cantare, e quei bravi uomini e donne nati all'inizio del 900, del 910, 920, loro cantano vittoria. Loro che sono passati attraverso una prima guerra mondiale e una conseguente epidemia di spagnola che ha selezionato proprio il patrimonio genetico. Una seconda guerra mondiale, una vita di stenti, di fatiche, di poco cibo, ma cibo sano, sanissimo e grande e con grande energia. E poi hanno approfittato di 60 anni di pace, che è la cosa fondamentale per prolungare la vita degli esseri umani. La pace. Se non c'è la pace, la vita si accorcia, inesorabilmente. È lì il discorso. E poi è stato falsato un dato importante, la mortalità infantile, per cui è stato praticamente considerato una grande vittoria dell'umanità, proprio abbassare la mortalità infantile. Ma questo è un dato che verrà valutato nei prossimi decenni, se è stato un fatto positivo o un fatto negativo. È una frase un po' pesantina, però approfondiamola per capirci. Ai posteri largo a sentenza. Certo, certo. La nostra vita passerà, perché è sempre appeso a un filo, io l'ho visto ieri sera, come può bastare un non nulla per avere... Possiamo dire anche al nostro pubblico che lei ha avuto un incidente con un cinghiale? Sì, un appuntamento incredibile. Pensate. Io sono stato tutto il giorno impegnato in tante cose, a Piacenza e dintorno. Di ritorno verso Bobbio, anche lì alcuni imprevisti che mi hanno fatto tornare a casa una qualche mezz'ora prima o qualche minuto prima. E improvvisamente a Monte di Perino, a una decina di chilometri da Bobbio, da sotto un guardrail, anche lì fatto anomalissimo, sbucca un cinghiale di un peso ben superiore al quintale. Proprio come se si fosse materializzato lì improvvisamente. E io non ho potuto fare altro che investirlo. Per fortuna ero su un mezzo abbastanza grosso, un furgone, e il cinghiale, io ho demolito praticamente il cinghiale con danni notevolissimi. E poi è andata a finire sull'altra corsia dove sopravveniva un'altra persona con una macchina che anche lui l'ha investito, ma per fortuna il colpo l'aveva grosso, l'aveva già preso, però ha demolito anche lui la sua macchina. Quindi se c'è un appuntamento col destino... E' incredibile, questi appuntamenti sono incredibili. Uno dice, ma guarda te, lì, proprio mentre io arrivo, con tutti gli imprevisti del giorno, ci siamo trovati lì in quel preciso momento. Se fossi stato su una moto non sarei qua, se fossi stato su un'utilitaria probabilmente non sarei qua. Mi spiace anche per il suo mitico furgone. Sì, 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 in effetti non so come sarà. Oggi aspetto la diagnosi domani, dei danni terribili. D'accordo. E mi spiace anche un po' per il cinghiale, me lo lasci dire, va. Eh, ma quello sì, probabilmente anche lui spaventato perché ieri era giornata di caccia al cinghiale, per cui anche lui ha vagato. Fa parte di tutto questo... Sì, una serie, perché noi facciamo parte in fondo di tutto. No, no, ma io ben mi guardo. Un grande mosaico. Volontariamente non... Ma torniamo a noi, quindi perché adesso direi di aprire il telefono tra qualche minuto. Io partirei lasciando scorrere delle immagini di comuni appuntamenti che vanno tanto di moda adesso, no? Questi gastronomici. Sì. Poi se uno vuole avere successo, anche magari in un'iniziativa qualunque, imbandire una bella tavolata delle, offrire qualche stuzzichino e già il 50% della tua iniziativa... Diceva, a tavola non si invecchia, magari si muore, non lo so. E poi adesso stanno proliferando... Facciamo gli spongiuri. Esatto. Poi diciamoci la verità, niente di più accattivante. Le persone che vivono a lungo in genere sono persone molto parche. Sì. Che fanno una buona attività fisica quotidiana e persone parche in tutti i sensi. E che mangiano poco. Questa è un po' una visione bucolica del mondo. E che hanno un DNA forte e potente e senza tante scalfiture. Chiamiamole così. Con dei geni non tanto facilmente alterati. A tutti piacerebbe nascere con un super DNA. Ma no, ma l'importante è vivere bene. Quello che ci è concesso di vivere. È tutto lì. Poi ci sono quelli che sono parchi per scelta e ci sono quelli che sono parchi per necessità. Ecco, ora vediamole un pochino da vicino anche le nostre abitudini. Se si fanno queste cose non può mancare, adesso questo qui che sta facendo assaggiare penso sia, cos'è, un aceto balsamico? Ecco, questo aceto balsamico che si mette su tutto. Fa bene o fa male? L'aceto balsamico mi spiace per i modenesi. Fa male. Ma decisamente è meglio la salsa di soia, anche se originaria dal Giappone. Il vero tamari. Il vero, verissimo tamari che è a base di salsa di soia, che è un condimento stupendo. O per qualcun altro, o per qualcun altro il limone. Ad esempio, sulle carni, sui pesci e sulle verdure che si accompagnano alla carne, al pesce oppure alle uova, va benissimo il limone. Però il dottor Mozio è buono tanto l'aceto balsamico. Ma sì, ma senza dubbio. Ma ogni tanto lo si può assaggiare. Ecco, arriviamo. Una chicca per tutte le donne. L'aceto aumenta la vostra osteoporosi, vero dottore? Altro che, altro che. L'aceto va benissimo, va benissimo per scrostare le pentole, per scrostare i lavandini dal calcare, per la pelle che acidifica il pH della pelle, che quindi mantiene la pelle sanissima, che dà brillantezza ai capelli, a tante cose l'aceto. Quando c'erano le epidemie, la peste, l'aceto, il famosissimo aceto dei quattro ladri. E qui incominciamo a salire la scala dei nostri nemici quotidiani, che comunque sono nemici irresistibili. I formaggi, che sono un po' la ricchezza del nostro paese. Eh, i formaggi, senza dubbio, in tutti i sensi. Latte, yogurt e formaggi. Prima o poi verrà detta la verità, che fanno riempire di catarro, già che siamo in un periodo invernale. Non solo l'intestino, ma anche i bronchi, i seni nasali, i seni paranasali. Il condotto di ustacchio, dove si forma il catarro e poi ai bambini avvengono le otiti, proprio perché poi insieme al catarro mangiano magari dei dolci, per cui la combinazione catarro e zuccheri scatta l'otite, che può essere una grossa, grossa patologia per i bambini. Può portare a delle febbre, a delle febbre molto alte, può portare anche a delle, insomma, complicanze nervose, del sistema nervoso centrale. Perché fa male il catarro? Cioè, il catarro, lo so perché fa male, ma perché fa male il formaggio e perché produce il catarro e altre cose? Ma bisogna pensare a una cosa, insomma, che il formaggio deriva dal latte e deriva dal latte di altri mammiferi. Una delle leggi fondamentali della natura e dei mammiferi è che le femmine dei mammiferi, quando mettono al mondo una creatura, un loro figlio, che sia un bambino umano, che sia un vitello, che sia un coniglietto, che sia un leoncino, che sia un tigrotto, che sia un elefantino, vengono nutriti per un determinato periodo, solo ed esclusivamente con il latte prodotto dalla propria madre. E dentro quel latte c'è dentro tutto l'essenziale per permettere la sua crescita, armoniosa, di tutto l'apparato scheletrico, osteoarticolare, di tutto, dell'apparato digerente, tutto, per tenerlo saldamente al mondo senza patologia. E dentro questo latte ci sono proteine, ci sono zuccheri, ci sono enzimi, ci sono ormoni e che sono specifici per ognuna specie. Quindi, gli esseri umani che mangiano il latte di un altro mammifero e soprattutto voi donne che vi cibate di questo prodotto, praticamente voi che avete un sistema ormonale ben preciso, ben specifico e ben complesso, praticamente gli ormoni di questo latte contrastano con i vostri ormoni. Da lì hanno origine le grosse patologie. Nell'85-90% dei casi i tumori al seno, i fibroadenomi al seno, ciste ovariche, fibromi dell'utero e dell'ovaia, i tumori dell'utero e dell'ovaia hanno origine da quel contrasto ormonale. Se la ricerca decidesse veramente di ricercare dove c'è la causa e l'origine, lì scoprirebbero la verità. Non servirebbe fare grandi raccolte, grandi questue come vengono fatte per televisione la settimana scorsa, quella dell'associazione ricerca sul cancro. Per andare a ricercare qualcosa di cui non si troverà mai veramente il modo di sbarrargli il passo a questi tumori. Dei tumori bisogna capire perché si formano e il perché è proprio nella scalfittura quotidiana del proprio sistema delle difese immunitarie. Ecco, dottore, ricordo che lei... Ma lo sanno, ma io temo che lo sappiano. Lei questa affermazione la fece anche in una trasmissione legata a Medicina Amica. E so che si sono scatenate polemiche e anche, non dico... esatto, per dimostrare che in realtà nel latte vaccino non ci sono ormoni. Ma noi non ci riferiamo agli ormoni, quelli, gli estrogeni... No, 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 gli ormoni naturalissimi, prodotti dall'animale, prodotti dall'animale. Quindi lei conferma questa versione? Ah, guardate, il bello è questo, che quando poi una donna ha contratto un tumore al seno, che poi viene operata, che poi viene trattata con la radio e con la chemio, e dopo che ha subito tutto questo grande danno, e poi gli viene detto, signora, forse è meglio che lei non mangi latticini. Signora, forse è meglio che lei non mangi formaggi che non mangi latte. Signora, forse è meglio che lei... stia attenta alla dieta. Quindi c'entra molto meno col colesterolo, queste cose. Perché? Perché? Perché non glielo dite prima? Perché non prendete determinate persone che vogliono... Ma perché ce lo consigliano per l'osteoporosi? Ancora ritorniamo... E perché lo consigliano per l'osteoporosi? E perché le donne cinesi non hanno osteoporosi? Dove un miliardo e trecento milioni di esseri umani, di cui in prevalenza più della metà sono donne, e non hanno osteoporosi come qui? E dico la Cina, prima, perché è il paese più popolato, secondo, perché è il paese dove non usano assolutissimamente latte, yogurt e formaggi. Perché? Bisogna sempre chiedersi perché, come i bambini. Vedete che cosa stupenda che sono i bambini. Vi tempestano di un'infinità di perché. E non vi danno tregua, vi incalzano. E dopo una tappa che voi avete raggiunto vi dicono perché... E c'è il passo dopo. E poi ancora perché... Fino a che non si arriva all'essenza delle cose. E solamente arrivando all'essenza delle cose si riesce a liberare l'umanità da questo marasma di patologie. Perché non è vero che stiamo bene, come ci vogliono far capire. Stiamo molto male. Sì, la vita si è allungata, ma grazie a quelli che sono nati all'inizio del secolo. Perché vengono tenuti in vita anche quelli che sarebbe meglio lasciarli morire in pace, in santissima pace. E questo apriamo un discorso. Lei è molto più di rompezza, è stato quel cinghiale che le ha guastato il buon umore, ma stasera è più pesante del solito. Forse è stato cinghiale. È stato quello. Noi rispettiamo una... No, ma veramente perché io soffro e io mi arrabbio. Perché l'altro giorno quando ho visto questa bambina, i genitori di questa bambina di due anni, col diabete, con già una quantità di insulina enorme, quando sarebbe stato sufficiente dirle. Perché? Insomma, ma io non penso di essere un genio, ma non mi ritengo un essere superiore. Sono un comunissimo mortale che ho imparato non tanto all'università, ma coltivando gli orti, la terra, i fruttetti e cercare di capire il perché. Insomma, se un diabetico ha la glicemia alta e un diabetico non mangia lo zucchero, crebio, da dove salta fuori questo zucchero nel sangue. Ci fermiamo qui con questa domanda? Guardi, accompagnata anche dalle immagini giustissime di pane, brioche, pizza, pasta, grissini, riflettiamo un attimo. La pausa pubblicitaria alle 21.06 durerà solo un minuto. Sì, è vero. Adesso c'è Santa Bibiana. Stavamo parlando di clima, ma poi arriveremo anche a quello. No, dottor Mozzi, io intanto che l'ascoltavo prima, così mi era venuta alla mente un po' delle cose un po' studiate, un po' ad esempio il pane, il pane che si è sempre detto che fa bene. Il pane che è una cosa che molta gente non ci bada. Quando tu mastichi il pane, una masticazione importante, poi senti dolce, è ovvio. L'amido si trasforma in zucchero, però tu ingurgiti i zuccheri. Questo è, io ho i ricordi della pialina, la pepsina, gli enzimi della masticazione, insomma ogni tanto qualcosa ti torna alla mente, no? Ecco allora queste cose. In che ha fatto bene le scuole, come le cose fondamentali e essenziali. Noi veniamo da una generazione che forse ha studiato un qualcosina di più, no? Allora, queste cose davvero sono negative, positive o ci possono lasciare indifferenti? Siamo venuti al grande nemico del dottor Mozzi, che è i glutine, sono i cereali. Glutine e lattose, due molecole che qua in occidente sono la base delle più grosse patologie, anche di quelle cosiddette incurabili e a causa ignota. Sì, i cereali, guardate, pensate, i popoli del nord del pianeta, adesso che andiamo verso l'inverno. Certo. Alaska, Lappogna, nord della Siberia, ma come pensate che possano resistere a quei freddi lì? Che non si mangia mai panini. Con i cereali che non crescono a quelle latitudini, o con la carne e col pesce, con le bacche e con le radici. C'è una telefonata. E poi basterebbe vedere cosa succede d'inverno quando le ascelle non funzionano più. Perché qua c'è una valvola di sfogo potente, queste ascelle, quelle che d'estate con il loro sudore ci purificano, ci fanno uscire le tossine. Ma d'inverno non funzionano più perché non c'è il sole fuori, che è un grande medico. Qualcuno dice per fortuna, però no, quello dipende. I giovani dispiace molto spezzare le cammini. E non c'è più questo sudore. E allora noi abbiamo la pelle interna. Le mucose dell'apparato respiratorio che fanno loro, producono loro il sudore. Il muco e il catarro, quando quindi si mangiano determinate sostanze e soprattutto i cereali e i latticini, il nostro apparato, il nostro albero respiratorio, produce muco e catarro. Basterebbe osservare, dopo ogni pasto, adesso, quanta gente comincia ad avere tosse e tossettine, catarro in gola, catarro bronchiale. Naso che si riempie di catarro o che si riempie di muco che poi cola, per capire da dove vengono fuori. La approfondiamo questo. Sentiamo la telefonata e poi ne parliamo. Tutta la serata parleremo di queste cose. Pronto? Sento che è caduta la linea. Pronto? Troviamo. Il numero c'è, no? In sovraimpressione. Abbiate pazienza. Intanto tu velocemente hai anche una... Sì, allora, mi è arrivato un'email. Prima, nell'intervallo, parlavamo del Parkinson, che in effetti è... Allora, un nostro telespettatore dice, su una rivista ho letto che sembra che chi fuma una sigaretta e beve un caffè al giorno è protetto dalla malattia Parkinson. Ecco, io vorrei sapere anche la rivista, perché comunque sarebbe davvero una bella scoperta se fosse vero. Ma a parte questo, nella sua esperienza, dottor Morsi, ha mai scoperto relazioni tra gruppi sanguini e alimentazione nella malattia del Parkinson? Ah, sì. È lì. Siccome il gruppo del sangue è solamente il segnale, manifesto, a noi capibile facilmente, di quali sono le nostre caratteristiche immunitarie, e quindi dietro questo comunissimo gruppo del sangue c'è tutto il nostro equilibrio immunitario, basterebbe vedere, ma già anche da abbastanza giovani, quando le mani cominciano a muoversi, così, che è il primo segnale, già da giovane, che quella persona potrà poi incappare nel Parkinson. Un attimo solo, dottor Morsi, scusi, perché abbiamo la telefonata... Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Io chiamo da Milano. Sì. Benvenuto. Io, grazie, desideravo fare una domanda, non so se c'entra molto, però siccome da un po' di tempo, da un po' di anni che giro per cercare una soluzione e non l'ho mai trovata, desideravo sapere il parere del dottore. Ci dica. Prego, prego, faccia. Dica pure, dica pure. Dunque, io ho un problema, credo, legato alla digestione, nel senso che ho sempre un fortissimo cattivo sapore in bocca, 24 ore su 24, e la patina sulla lingua, e ho fatto tutti i tipi di cure dai gastroenterologi possibili ed immaginabili, le cure, mai risolto niente. E poi, appunto, anche io ho il problema del sudore, nel senso che io sudo tantissimo, addirittura macchio i vestiti, e ho un odore forte, però io non riesco a venirne a capo di queste due cose. Può dipendere dall'alimentazione? No, non può dipendere, dipende solo, scusate la mia determinazione, ma veramente lo devo essere, dipende solo ed esclusivamente anche il sapore, l'odore, la consistenza e anche la colorazione che il sudore lascia sui vestiti, dipende solo ed esclusivamente dal cibo, perché la nostra pelle è un organo emuntore, è un organo che libera tossine dai pori della pelle, fuoriescono tossine, e per fortuna che fuoriescono, in tutti i modi, in tutte le forme, a cominciare dall'acne giovanile, dai brufoli, dai foruncoli, dalle forme toste terribili di dermatite, da una psoriasi, da lì fuoriescono tante, tantissime tossine, che noi introduciamo quotidianamente con il nostro cibo, ma la sua patina, tutte le mattine, appena alzato, tiri fuori la sua lingua davanti a uno specchio, prende un cucchiaino, lo afferra per la parte concava, e usa come una spatola il manico, e dal dietro in avanti si toglie questa patina, e lei vedrà così ogni giorno quanto se ne forma, e stia attenta, attentissima ai cibi che introduce, e se lei è bravo, attento, lo capirà, comunque se c'è un alitosi, un alito cattivo, una bocca amare, e via dicendo, sicuramente, occhio ai salumi, occhio ai latticini, per certi versi occhio anche a certe carni, occhio ai fritti e i soffritti, queste sono le cose che possono creare uno stato di intossicazione del fegato, e l'alito cattivo non dipende da denti, non mangiate cewingon che vi rovinate poi lo stomaco, quindi, ma capite che dietro un alito cattivo c'è solamente ciò che noi introduciamo. Ecco, noi, io penso che per il nostro telespettatore, ecco, sia stata esaustiva la risposta, e ne abbiamo preso atto anche noi. Abbiamo anche un mini pubblico questa sera, composto prevalentemente da donne, ma c'è anche... Tutto interessante anche perché tra l'altro nel pubblico c'è anche una persona che conosce il dottor Mozzi, e quindi magari può fare domande. Io però vorrei tornare a quello che dicevamo prima, a Mr. Parkinson, il sangue, il gruppo sanguigno, ma non solo, il sangue è un elemento importante, allora... È un organo il sangue, è un organo liquido, l'unico organo liquido. Curiosa definizione, non l'avevo mai sentita. È un organo fatto di determinate cellule, di determinate sostanze. Il compito principale del sangue, della circolazione sanguigna, è quello di portare nutrimento, ossigeno... Tutto quanto, tutto, tutti i nutrienti, tutte le sostanze vengano veicolate dal sangue, sia le sostanze utili, sia le tossine. Sia quelle dannose, certo. È lui, quello che mette in comunicazione tutti quanti i milioni e i miliardi di cellule che compongono il corpo di un essere umano. È strabiliante. E lì c'è dentro tutto. E gli antichi, ma non solo tanto gli antichi, fino a qualche decennio fa, quando una persona aveva una determinata malattia, diceva... C'erano i salassi. Ce l'ha nel sangue. Sì, a parte la storia dei salassi, che è un rimedio strabiliante, per certi versi. Comunque dicevano, ce l'ha nel sangue. Certo. È il sangue che bisogna curare. Non bisogna curare lo sfogo del sangue. Non bisogna curare un'acne, una psoriasi, un mal di testa, un'ottite o una broncopolmonite. Bisogna curare il sangue. O fortificare il sangue, o non indebolire il sangue. Questa sarà la grande rivoluzione della medicina. Capire dove c'è la causa delle patologie, che è nel sangue, su base ereditaria, sulle caratteristiche. Mi è venuto, dottore, un lampo. Prima abbiamo parlato del latte. Sa, sono quei lampi. Io sono le prese con una cosa che è interessantissimo, quello che dice lei. Anche se, onestamente, dubbi ne ho tantissimi. Tornando al latte di prima, mi è venuto in mente che un tempo, ai bambini che non prendiamo più il latte della mamma, ma che non reggevano il latte vaccino, molti medici consigliavano il latte d'asina. Perché? Sì, ho il latte di asina, ho il latte di capo. Esatto. Sì, perché dal punto di vista immunitario sono molto, ma molto più affini a quello umano. Ma fino agli anni 50 c'era quella stupenda abitudine che, siccome c'erano quello che in natura è la cosa più diffusa, ossia di fare figli, c'erano che se una mamma non aveva il latte, gli si dava. Andava dalla baglia. Non è finita l'abitudine, sono finite le baglie. Anche adesso, dottore, c'è la banca del latte. Sì, ma adesso è una cosa da... Sarebbe bello, sì. Sono finite le baglie, però. Ma lì sarebbe bello. C'è una telefonata. Sarebbe bello, e diamo così ogni tanto una qualche dritta, non come atto di superbia, ma come atto grande di aiuto, dove ci sono i centri di ostetricia e ginecologia che curano, seguono le mamme per insegnarli ad avere latte. Devono dire alle mamme che non devono mangiare latte per produrre latte, se no li si blocca tutta la loro produzione di latte. Devono mangiare tutto il resto, tutti gli alimenti per cui è stato programmato l'essere umano per produrre latte. Dottor Motti, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Ascolti, io volevo porle una domanda. Solo da dove chiama, per la nostra statistica. Sì, ascolti, chiamo dalla provincia di Bergamo. Benvenuta. Però io ero di Cremona. Ascolti, niente, è un bambino che ha un anno, però da quando ha tre mesi lui sopra spesso di bronchite e continua a avere catarro e adesso più di un mese roti che non gli passa la tossi. Allora, che sangue ha suo figlio? Eh, quello non lo so però. Che sangue, che gruppo ha del sangue lei? Io ho A positivo. E suo marito? B positivo. E il bambino B positivo? No, il papà è B positivo. Come dice? Io ho A positivo e il papà è B positivo. D o B? B. Ah, D non esiste. B. B, B di Bologna. Eh, sì signora. Allora, guardi in che momenti del giorno suo figlio manifesta una maggior produzione di catarro con fenomeni di tosse o che gli si tappa al naso. Guardi e vedrà che corrispondono con l'assunzione del cibo. E vedrà che quel bambino se sta quattro ore o cinque, se poi rimanesse cinque, i bronchi gli si libererebbero dal catarro. Perché dopo un tot di tempo il sistema immunitario proprio praticamente elimina tutte le tossine. E lei capirebbe che quel catarro lì deriva sicuramente dall'assunzione di determinate sostanze. E in quel caso lì, ma fateli fare velocemente il gruppo sanguigno per essere sicuri, perché lì le possibilità sono tre. Può essere che sia, anzi addirittura quattro. Potrebbe essere anche A, B, AB, ma è possibile anche uno zero. Sì, perché l'altro bambino è quello più grande e a zero positivo. Quindi, vedi, ci sono quattro possibilità. È difficile che poi se ne siano due di fila. Bisogna capire meglio tutto quanto. Ma lì, guardi, lo vede. Sicuramente le persone di gruppo B hanno un'intolleranza al frumento spaventosa. Perché la pediatra mi ha fatto fare, perché a sei mesi sembrava che si era restato un po' con la crescita, ma aveva fatto fare gli esami per vedere se ho problemi di celiachia. Ma no, ma no. E invece no. Eh, bravo. Ma perché lei, secondo lei, tutti i criminali vanno in giro con il cartello e dicono io sono un grande criminale. Ma secondo lei, non lo sa che per la legge della privacy non si può fare? Ed esiste anche per il glutine la privacy. Mica è scemo il glutine. Che se no dice non mi mangiano più. No? Quindi lei, come consiglio... Signora, ma sicuramente deve stare all'occhio, al frumento in primis e ai latticini in seconda battuta. E lì troverà la causa del catarro. Perché io pensavo al pomodoro, mi dava l'impressione più quando mangiava pomodoro. È possibile, perché per entrambi, per lei e per suo marito, il pomodoro è sicuramente una sostanza pericolosissima. Più ancora per suo marito che per lei. Per il vostro figlio zero, invece, col pomodoro se la cava benissimo. Non ha problemi. Però, signora, se voi state attenti, dovete imparare a essere attentissimi. E tra le tante possibilità, tra le tante variabili, mettere in conto, prendere in considerazione che anche il cibo, non lo dico, io sono appunto, per non essere un estremista, dico che anche il cibo, ecco, sia causa di una patologia. Poi scoprirete che lo è nel 99% dei catarro. Però, mettetelo tra le cose più dubbiose di questo mondo. Però, prendetelo in considerazione. Anche il cibo può essere alla base di una patologia. Ascolti, volevo chiedere, per venire... Che fiore di cicoria stupenda, bellissima. Per venire a trovarla su e potergli portare il bambino, una volta che magari vedo che gruppo ha... Ma a quell'età lì, se non ci sono dermatiti, eczemi, l'importante è parlare con i custodi. È importante parlare con i genitori, quando hanno... Se ci sono delle forme, diciamo, di dermatiti, di eczemi, allora questo qua sì che è importante. Ma le tosse, ad esempio, che sono veramente dei sensori incredibili, la tosse scatta, si scatena rapidamente, dopo il contatto immunitario, soprattutto nel periodo da quando arriva l'abbassamento della temperatura, da fine settembre in avanti. Per oramai c'è gente che ce l'ha anche proprio d'estate. Ma Luiz, quest'estate no, ha iniziato appunto verso settembre e non si riesce a fargliela passare. No, no, ma infatti... Ma qui diamo una regola in generale. D'estate sudano, soprattutto i bambini, e poi stanno fuori all'aperto, giocano, si muovono, quindi bruciano le tossine. Ma voi state attenti, attentissimi, quando cominciano a tossire, o quando cominciate a tossire, se sono persone che lo possano capire da sé, che vi venga un raspino in gola, un catarrino, tipo così, o colpi di tosse più forti, o che si forma del muco e del catarro nel naso, o che vi vengono sternuti a raffica, o che vi si tappano le orecchie, guardate in che momento del giorno, segnate il giorno, vi segnate l'ora e vi segnate, andate a vedere che cosa avete mangiato prima. E voi capirete il perché. Va bene. Guardi, ma veda e controlla anche il suo marito, perché quello che ha suo figlio, suo marito, ce l'avrà in modo latente, o non così manifesto, però sicuramente ce l'ha. Ma provi a dare uno dei cevingum, di quelli che vanno di proprio, quanti anni ha il suo marito, signora? 45. 45 anni. Provi a dare al suo marito uno di quei bei cevingum che adesso tutti quanti li masticano, e dopo dieci minuti che lo mastica, prova a sentire che cosa gli succede in gola. Ah, ma salutiamo la telespettatrice. Come regola, riproponiamoci di essere più veloci nelle risposte, così accontentiamo più gente. Signora, la salutiamo. La salutiamo e grazie per aver chiamato, ma insomma, cos'è sta storia delle gomme da masticare? Le gomme da masticare, la prossima volta, Antonella, se capiterà una prossima volta, si portano vari scatolette di cevingum, bacchettini di cevingum, e si leggono parole strane, maltitolo, maltitolo, isomaltolo, aspartame, acesulfame. Punto interrogativo, da dove provengono queste sostanze? Da dove provengono? Dubbio di quel terrorista di Piero Mozzi. Non è che provengono magari da determinate forme di mais? Punto interrogativo. Mais transgenico? No? Antonella lo disse. Ah, va bene. Anche l'aspartame? Io ho dei seri dubbi, nessuno ci dice da dove vengono ricavate queste molecole qua, queste sostanze. Sì, questo è vero, nessuno dice da dove vengono. Ma basterebbe prendere 10 persone di ogni gruppo sanguigno, gruppo A, 0, B, AB, e fargli la prova, 40 persone, e li si dà da masticare a ognuno uno di questi cevingum. A tempi, a intervalli regolari, si passano varie marche e li si fa vedere. Eh, già, perché noi non lo sappiamo ma dovremmo fronteggiare in futuro anche l'arrivo di alimenti transgenici. Questa è la vera scienza, vedere, osservare bene cosa succede. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera, io sono Piera da Milano. Buonasera signora. Sì, buonasera, grazie. Oh, meno male che ho preso la linea. Comunque volevo fare i complimenti al dottore perché sono d'accordissimo nel dire che fra 20 anni la mia generazione non ci sarà più, mentre quella appunto del 1900 regge ancora. Penso proprio così. Adesso volevo chiedere al dottore, io sono 0 positivo, non so che cosa mi va bene e che cosa non mi va bene, io lo ascolto attentamente, ho una dermatite seborroica sul viso che non guarisce mai, tranne l'estate, quando c'è il sole. Cosa dovrei fare? Vede che potere curativo ha questa natura, il sole. Eh. Il sole e il mare che guariscono cose strabilianti. Sì, è vero. Tranne se uno va al mare e continua a mangiarsi pasta asciutta e lasagna al forno, perché poi il rischio è che poi non guarisce neanche con gli effetti benefici. Dice, sì signora, lì bisognerebbe sapere un po' le sue abitudini alimentari, però dietro quella dermatite stia sicura che c'è il cibo. Conoscendo un po' la sua storia stia attenta ai latticini che può essere lì, non so se lei li mangia. No, no, pochi. Oppure no, o se mangia dolci cremosi. Sì, prima sì perché ho smesso di fumare, per cui mi hanno aiutato moltissimo. E quindi può essere che i dolci cremosi le possano far avere quegli sfogli, però dubiti, dubiti, ma lei lo vede, perché dove ci sono le dermatite signora? Vanno di pari passo i pruriti. Ah, no, questo non è un prurito, no, è una cosa che esce fuori vicino agli occhi e mette le creme che mi hanno detto. No, no, ma lasci stare le creme, non servono a niente le creme. Guardi, quando lei si arrossa, perché lei si arrosserà? Magari lei si sveglia al mattino e non c'è il rossore. E poi invece comincia a fare colazione e può essere che comincia il rossore. Quindi deve stare attenta e attentissima. Stia attenta ai salumi, stia attenta anche al frumento. Dovete stare attenti e attentissimi alle variazioni. E come zero positivo io che cosa... Eh, signora, ce n'è un'infinità di cose che lei può... Eh, la contenti, ad esempio... No, ma le l'ho detto, la causa di questa sua dermatite sicuramente. I latticini possono essere o lato, yogurt o formaggi, o gelati o dolci dove c'è dentro il latte, i cioccolati al latte, ci può essere, non so, ad esempio, determinati salumi, salumi di maiale sicuramente, difficilmente, difficilmente i salumi di manzo, derivati dal manzo come canne salata oppure dal cavallo. Ok. Poi ho trovato un'infinità di altre persone, a cui l'extravergine d'oliva può determinare determinate dermatite. Se io mangio tre giorni di fila l'extravergine d'oliva, ho questa parte del palmo di entrambe le mani che mi si fessura. Comunque, il consiglio di tenere un diario alimentare, perché poi uno magari non si ricorda... Controllare tutto ciò che succede, da un fischio all'orecchio, anche dagli sbattiti aumentati delle palpebre o delle vibrazioni delle valpebre, dai tremori delle mani, dall'arrossamento del viso, che l'arrossamento del viso poi è uno dei segnali proprio più eclatanti dell'intolleranza al frumento, quei colpi di folgore in viso, due ali di farfalla rossissime, che possano arrivare all'estremo proprio immunitario con un lupus eritematoso, essere la spia appunto di un lupus sistemico. Tutto lì. Dovete capire che ciò che vi succede non è l'ansia, non è lo stress. Signora, alla luce di quello che le ha detto il dottor Mosi, lei si abitui a tenere proprio davvero un diario alimentare e poi periodicamente si va a riesaminare e lo collega alle cose e magari riesce a scoprire. Imparate a fare pasti semplici, perché se voi mangiate tre cose, lo capite più o meno quale delle tre vi ha dato dei problemi. Ma adesso sono a dieta, cerco di mangiare poco. Ma se mangiate dieci cose nello stesso pasto è difficile poi, come se qua dentro ci fosse un omicidio, dovremmo indagare su un po' di persone in più. Se fossimo solo in tre, uno viene fatto fuori e restano due. Ma per lei, dottor Mosi, quella famosa frase, perché lei sta insegnando un sacco di cose, no? No, io sto facendo suscitare dei dubbi alla gente. Ecco, no, ma quella famosa frase latina, medice curate ipsum, lei la applica? Eh sì. Sì. Cioè lei segue, pedissequamente, tutte queste cose. No, le lo chiedo perché... Ma infatti, assolutissimamente, ma io l'ho imparata a mie spese. Io ho imparata a mie spese queste cose. Le immagini che noi vediamo... Perché io avevo, non lo so, al primo mi ricordo, quello che mi ha fatto capire la causa e l'origine dei problemi, a parte che sicuramente avevo dentro nel mio DNA una determinata tendenza e caratteristiche in questo mio carattere che è stampato a grandi linee nel DNA di tutte le persone. Questa voglia, volontà di capire il perché e il per come delle malattie. Io, a vent'anni, che avevo frequenti tonsilliti, ho detto, Piero, qua dobbiamo capire, è inutile prendere antibiotici. Era il primo anno di medicina. E sono riuscito a capire che se mangiavo certe cose mi venivano le tonsilliti. Se non le mangiavano mi passavano immediatamente le tonsilliti. Tutto lì. Dopo un po' alimentazione... C'è una telefonata? Chiedo scusa. Una telefonata perché poi dobbiamo fare anche un intervallo. Io vorrei dire che quelle immagini che vedete adesso non sono più riferite a questi incontri, cos'era il gusto, queste fiere che si tengono con grande successo. Ma ecco, esatto. Quello che vedete invece adesso, questa è la cucina delle mogliazze. Sì, chissiamo mogliazze. Quindi è un cibo frugale. Per avere provato ti garantisco che si mangia bene, i gusti sono buonissimi, si mangia molto poco perché loro sono molto frugali. E quindi non... Per quello non ci si alza, no Gianni, noi non siamo così, noi siamo più goderecci e sbagliamo. Allora, la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Lei ci chiama da? Bergamo. Bene. Volevo sapere, allora, io ho un nipote di sette anni che ha una vitiligine. Cosa si può fare? Eh signora, la vitiligine è lì, un abbassamento delle difese immunitarie, è proprio, Proteus, il glutine, è lui, nelle sue proteiforme manifestazioni. Abbassamento delle difese immunitarie che vanno a colpire la pigmentazione della pelle, tutti i meccanismi che determinano la pigmentazione della cute. Signora, eccesso di glutine, durante la gravidanza del bambino l'eccesso di glutine assunto dalla mamma, può essere già stampato nel suo DNA, l'eccesso di glutine, perché adesso dovete pensare che insomma si mangia glutine al mattino, glutine a metà mattino, glutine a pranzo. Ma è cambiato una cosa fondamentale, signora, quindi, la causa fondamentale della vitiligine, il più grosso, il più importante personaggio colpito dalla vitiligine è il nostro ex Presidente della Repubblica, Cossiga. Che basta sentirlo parlare per capire che è un forte mangiatore di cereali. Ok, per cui... E si capirebbe anche il perché del carattere a volte così proprio balzano di Cossiga. Quando ha lo stomaco fuori posto, gli salta, gli salta la mosca al naso. Lui viene dalla cultura del pane carasano. Come si chiamavano le mazzate, no, come si chiamavano le piccossiga? Le picconate. Le picconate, quindi erano dovute alla digestione, eh, dottor Motti? Ah, se voi vedeste come cambia il carattere delle persone quando lo stomaco è irritato, capireste perché c'è altre persone... Ah, beh, questo è vero, questo è sicuro, certo. Ma prima della pubblicità, dottore, mi piacerebbe ritornare su questo punto. E' cambiato il frumento, perché i glutine principalmente nel frumento, ma anche in altri cereali. E' cambiato tutto. Prima di tutto, l'uomo è sempre stato un essere vivente, molto semplice, parco. Secondo, l'uomo faceva un sacco di attività fisica. I famosi 20 km al giorno di Arigliano erano proprio la storia dell'uomo. 10 all'andata e 10 al ritorno. Sempre, o per cercare il cibo, o per cercare il riparo, o per cercare di riprodursi. L'amorosa, l'amorosa. Tutti, tutti, eh, lì, la grande forza della vita, la riproduzione. E poi, e poi, adesso invece il glutine lo si mangia almeno 5 volte al giorno. Cracker, grissini, fette biscottate, focaccine, brioche. Si comincia al mattino, al mattino della propria vita, sia l'infanzia, con i biscotti stracarichi di glutine Pucciati nel latte, con le pastine glutinate, col glutine che ve lo trovate dappertutto. Questa molecola, prima, era in piccole quantità. Poi sono stati selezionati i frumenti stracarichi, straricchi di glutine. E poi l'ha messo dappertutto perché il glutine dà questa elasticità agli alimenti. E pensiamo che la pasta è buona se contiene glutine. E prima c'era la grande selezione naturale per cui tanti bambini morivano di broncopolmoniti. E la broncopolmonite era la selezione naturale dal glutine. Quindi venivano tolti dalla circolazione gli esseri viventi che non tolleravano il glutine. Per cui a riprodursi andavano le persone che lo tolleravano, che lo smaltivano con l'intensa attività fisica. Dottor Mozzi, leggo questa brevissima, un'emerica appena arrivata, prima della pubblicità. Salve, si chiama Luca, sono un ragazzo di 22 anni, vi scrivo da Milano. Fino a un paio di anni fa mi ammalavo spesso 3-4 volte all'anno. Ma da quando ho iniziato la dieta vegana, non legata a problemi salutari, ma per rispetto degli animali che vengono maltrattati, non ho più riscontrato nessuna malattia. Mi nutro principalmente, ahimelui, di cereali e legumi, che dice che i cereali fanno male come molti altri cibi. Mi chiedevo quali fossero i cibi sani di cui abbiamo bisogno. La ringrazio, pubblicità, e poi lei darà una risposta. Alimentazione vegana Ecco, siamo tornati in studio. Io intanto invito Luca, quel ragazzo di 22 anni che ci ha mandato l'email, a mandarcene un'altra in cui si dia il suo gruppo sanguigno. Ecco, perché dottor Mottini? Lo vogliamo dire cos'è un'alimentazione vegan? Cioè un'alimentazione che non è solo vegetariana, ma che ha escluso latte e uova. Sì, che ha escluso, esclude tutti quanti gli alimenti di origine animale. Quindi anche le uova, i latticini, il pesce, dovrebbe essere anche il miele, che è di origine tutto sommato animale, tutto quanto. Niente, io sono un osservatore, io lascio libertà di scelta alle persone, mi sento in dovere di informare le persone e dire attenzione, capiamo la causa, il corpo umano è una grande massa di proteine, perché le proteine servono nel rinnovamento di tutte quante le cellule. Il corpo umano non le spreca, ne elimina una parte, ma la maggior parte poi le rielabora tutte quante. Non è uno sprecone come gli uomini. Ma i popoli liberi, che sono sempre vissuti e che tuttora ci sono, sono pochi, sono sempre più assaliti, che vivono liberi, che vivono in sintonia con la natura, non ce n'è uno che coltivi la terra. Perché il grande inquinamento è cominciato con la grande coltivazione. Fino a che l'uomo ha raccolto ciò che la natura produceva, ciò che la natura gli dava in base alle sue caratteristiche, l'uomo ha sempre rispettato l'ambiente. Eh, ma dovremmo essere molti meno, però... Ma non è vero Antonella, ne parlavo oggi con delle persone. Ma guardate, perché mangiare cereali e d'inverno abbiamo praticamente buttato da parte le castagne? L'Italia è tappezzata da milioni di ettari, praticamente, di castagnetti che stanno andando in rovina. Le castagne sono tollerate da tutti quanti. Ci sono migliaia e milioni di ettari di pascoli che potrebbero essere proprio usati per animali liberi al pascolo. Bisogna diventare parte. Poi ci arriviamo al discorso degli elementi. Per arrivare a produrre un quintale di cereali dobbiamo stravolgere tutto un equilibrio incredibile. Certo. E il cereale, prima o poi... Ma la cosa più grave non è produrre il cereale, è che produciamo la maggior parte dei cereali per nutrire il bestiame d'allevamento. Se vogliamo arrivare a un discorso etico... Quando tutto l'appennino sta andando in rovina perché non ci sono più animali che vanno a brucare l'erba dell'appennino... Anche questo è un aspetto che approfondiamo. Ma ne parliamo poi. Pronto? Adesso la telefonate e poi però ci ritorniamo su questo argomento. Sì, è importante. Perché uno può essere vegetariano ma mangiare anche bene, dottore. Non abbiamo parlato di riso, non abbiamo parlato di alternative. Io conosco, conosco tante persone. Fino che uno ha vent'anni va bene. Il metabolismo viaggia a buoni livelli. Si brucia. Si brucia tutto quello, il carburante, ossia i carboidrati che vengono introdotti. Sì. Ma quando il metabolismo inesorabilmente rallenta, da sopra i 35, soprattutto da sopra i 40, e poi uno che si sbilancia sui cereali vedrà che andrà incontro a dei problemi seri di salute. Io ne conosco a bizzeffe di persone che erano vegetariani e convinti, che erano vegani e convinti. E che poi si sono trovati donne veganissime che poi arrivate alla menopausa si sono trovate improvvisamente a pressione alta, a gonfiare tutto squanno e dicendo, e come pure sono vegetariano e sono vegano. Ma si può essere vegetariani e non mangiare solo cereali? Ma certamente. Allora poi le diamo le alimentazioni. Perché questo non vuol dire virare verso un'alimentazione tutta di proteine animali. L'equilibrio, l'equilibrio, l'equilibrio. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, lei chiama da? Da Sant'Angelo Lodigiano, provincia di Lodi. Io volevo porre una domanda al dottore. Dunque, in alcuni periodi dell'anno soffro di un plurito enorme, senza eruzione, senza niente, dietro la scapola sinistra. Che periodi sono dell'anno, signora? E' periodo dell'anno anche l'autunno. Adesso, facendo... Ma periodi dell'anno vari? Oppure ben delimitati da stagioni? No, vari. E sono del gruppo A1 positivo. Adesso, in questo momento, non ce l'ho. Perché, eliminando un po' di cose, ho notato che i fichi e l'uva. Non so se possono così, però in questo momento non ne posso. Mentre ho, nel periodo dell'uva, ho mangiato uva e fichi e mi hanno dato un ma proprio da scatenarlo e poi sempre dietro la scapola sinistra, ma non c'è nessuna eruzione. Eh, ma succede. Ma infatti, quello che abbiamo detto in precedenza, i pruriti e le dermatiti sono un grande aiuto del nostro sistema immunitario. Ci fa capire rapidamente, perché poi i pruriti sono ancora più rapidi e veloci, ci fanno capire quando noi introduciamo delle tossine. Lì bisognerebbe vedere i fichi e l'uva. Se lei mangiava solo fichi e solo uva, se lei li mangiava insieme a dei cereali. Per capire se una sostanza è responsabile di un determinato fenomeno come il prurito, signora, il momento migliore è il mattino a digiuno. Lei al mattino a digiuno si mangi un poco di uva, non mangi nient'altro per un'oretta e mezzo, due, e lei vedrà subito. Se entro due ore e le arriva il prurito, lei vuol dire che con l'uva ha un pessimo rapporto. Si va per esclusione. Idem con i fichi. Io ho dei seri dubbi che siano quelle sostanze. Potrebbe essere che se lei le mangiava insieme ad altri alimenti, potevano creare un eccesso glicemico, perché se lei mangia l'uva, frutto zuccherino, i fichi, frutto zuccherino, insieme a dei carboidrati, può comportare anche un picco glicemico. Il che può determinare anche, non è detto sempre, ma anche del prurito. Quindi lì dovete stare attenti, ma il prurito è il vostro grandissimo aiutante immunitario. Ecco, ma le volevo chiedere, dottore, come mai sempre dietro alla scapola sinistra? Ah, per forza, signora. Come mai lei ha il campanello d'allarme in un determinato punto della sua casa? Semplice, perché quello lì, signora, è un suo punto d'allarme del suo sistema immunitario. Ogni essere umano ha determinati punti ben precisi di sfogo del sistema immunitario. Infatti ci sono persone che hanno dermatiti in punti ben precisi, che hanno sfoghe e eruzioni cutanee e riteme rossamenti in punti ben precisi. E questo è il compito dei famosi ricercatori, che ricerchino dove c'è da cercare. Grazie. Devono sforzarsi. Anche per la sua domanda, grazie. Questi sono i misteri stupendi. Dottor Motti, ascolti, io sono goloso di uva e gorgonzola, prima o poi comincio a grattarmi anch'io. Guardi, tutto sommato, meglio. Uva e gorgonzola che non pane e gorgonzola. Su questo decisamente me. O pane e uva, se ho capito bene. Pane e gorgonzola, visto le sue caratteristiche del sangue, o con Parkinson, o Mr. Parkinson, o Mr. Alzheimer, ci può andare incontro. Con quel segno lì non si va da nessuna parte. L'essere umano deve capire. Con quel segno non si va da nessuna parte. E se facessero un'indagina curata i famosi ricercatori, stasera ce l'ho molto con i ricercatori. Mi sembra che lei abbia così una velata contrarietà. Se ricercassero, se dubitassero che anche il cibo può portare a Parkinson o ad Alzheimer, si capirebbe nel giro di un paio d'anni dov'è la causa di Parkinson e Alzheimer. Due anni al massimo. Perché ci sono persone, anche in età avanzata, anche sopra gli 80 anni, con Parkinson o Alzheimer, che si mettono in riga col cibo, che ottengono cambiamenti strabilianti. Questa è una cosa, lei dice che davvero col fianco ci sono malattie degenerative. Ma perché ci sono le famose cellule staminali, quelli che adesso salta fuori e che ce le abbiamo anche noi, ma che la famosa ricerca ce le vuole dare dall'esterno. Ecco, è lì. Rispondiamo a un'altra telefonata. Pronto? Le cellule staminali le abbiamo noi. Buonasera, lei ci chiama? Io la chiamo da Milano, sono Luisa. Sì, buonasera. Senta, io ho un problema. Cioè, ho tutti gli esami del sangue, vanno tutti bene. Io sono in sovrappeso, nessuno riesce a farmi dimagrire. Nemmeno quando sono andata a piancavallo. Ah, per forza. Ho la tiroide che non funziona, prendo le utirox al mattino. Quante utirox, signora? Eh, cento. Ehi, che dose da cavallo. Eh. Da piancavallo. Proprio, ecco, guardi, io in 45 giorni a piancavallo ho perso due chili. Ma perché cosa c'era da cavallo? C'è un centro, una volta c'era un famoso centro auxologico. Bravo, sì. Eh, signora. Io ho un problema, tra l'altro ho avuto l'operazione alle ginocchia che mi hanno messo le protesi e il mio problema è quello che devo diminuire di peso. Quindi mi dicono, non carichi, se non mi muovo aumento di peso. E non so più cosa fare. Quanto è alta e quanto pesa, signora? Allora, sono 1,65 e peso 110 kg. Buonanotte. Eh. E il suo sangue è il gruppo A, signora? Il mio sangue è B più, B positivo. Ah, guardi, B positivo. Ma l'ha sentito cosa ha detto la signora di prima? Lei ha un nemico per la pelle, signora. Ah. Il pane e la pasta. Comunque tutti gli allevatori, per far ingrassare i loro mammiferi, gli rifilano dei cereali, signora. Poi li tengono fermi e questi mammiferi mettono su grasso tutto spiano. Camminare, camminare, camminare. Ma con le protesi. Mangi, mangi, sì, sì, ma anche con le protesi. L'importante è disinfiammare e poi le protesi riesci a sopportarle benissimo. Signora. Quindi io devo eliminare il pane. Camminare e dimenticarsi i cereali. Perché un pacchettino. Li vogliamo nominare. Un pacchettino di cracker di 20 grammi è come quelle spugne, quelle spugne di mare, che quando sono asciutte pesano 20 grammi. E lei ci mette vicino un litro d'acqua e diventano grosse come un pallone e non mollano una goccia d'acqua. E lei anche con un pacchettino di cracker trattiene mezzo litro, anche un litro d'acqua. E si ingrassa anche con l'acqua e con un pacchettino di cracker o due fette biscottate. Non capito. Quando non si togliono più. Quanti anni ha, signora? Ne ho 75. Forza e coraggio, signora. Si dimentichi. Perché io ho la mia forma, diciamo così, mi dicono che sono di forma ginoide. Cioè io ce l'ho dalla vita arrivare al ginocchio. Perché per il resto... Sicuramente adesso il grasso sarà diventato bello tosto. Per cui servirà anche una buona razione di massaggi, sfregatura al mattino. Al mattino presto, appena si alza, presto, appena si alza. E questa è una buona regola per tutte le persone che hanno problemi di cellulite, di ritenzione di liquidi. Sì. Ecco. Guanto di crine. Non sono le donne, perché voi uomini non avete cellulite. No, no, adesso arrivano anche gli uomini. E come? Guanti di crine. Come cambia i tempi, Antonella. E' una bella strofinata con l'acqua fredda. Ho capito. E si ricordi che non esistono creme che fanno mandare giù il peso. Il segreto del peso, signora, è l'equilibrio alimentare. Quindi io non devo mangiare né panni né pasta, nessun tipo di... Ma anche con il riso, signora. Brava, signora. La salutiamo e lei ascolta la risposta. Lei, praticamente, i primi se li dimentichi, i cereali se li dimentichi. Ma io le mangerò cinque volte al mese. Ma non cereali in fiori. Il pane mangia un panino a pasto. Eh, signora, un panino a pasto, sono due panini a pasto. Poi magari c'è qualche biscotto a fette biscottate per colazione. E poi c'è uno spuntino con un biscottino. Signora, per cereali intendo... Ok. Frumento, farro, camut, orzo, avena, segale. E questi sei sono quelli che contengono glutine. Poi c'è il mais, che non contiene glutine, ma che per lei è tosta e terribile. Certo. C'è il riso. E c'è il miglio, che è il meno peggio. C'è l'è lì. Agricoltori, investite nel miglio, che è il vero futuro dei cereali. E non è un caso che i popoli che corrono velocissimi, etiopi, chenioti, e vi dicendo, sono mangiatori di miglio. Ecco, ma in un caso come questa signora, che è evidentemente molto in sovrappeso, deve eliminare proprio tutti? C'era anche, ad esempio, il miglio? Ah, pochissimi. Niente mais? Quando le persone hanno queste patologie qua, perché queste sono patologie, per giunta poi c'è finita dentro anche con l'artrosi, e lì bisognerebbe valutare bene, anche vedere la glicemia. Quindi è anche l'indice glicemico di questi alimenti che è pericoloso. Sì, senza dubbio. Senza dubbio. È lì. Uno dei grandi equilibri del corpo umano, non solo la temperatura, il pH, ma anche proprio l'equilibrio glicemico. Ecco perché... Che deve essere, ricordiamolo, tra 60 e 90. Perché se superi 90, a meno che non sia una persona di 80 anni, vuol dire che c'è un metabolismo che sta già rallentando. Vuol dire che a cena mangiamo già più del dovuto di cereali. Quindi se alla mattina la nostra glicemia supera i 90... Sì, soprattutto se si è in età giovanile, se si è sotto i 40 anni, darizzare le antenne. Ma se facessero bene attenzione chi ha le analisi, e i medici che vedono le analisi dei loro pazienti, Quando vedono una persona di 20 anni, di 30 anni, che ha una glicemia sopra i 90, se fanno un'indagine scoprono che quella persona facilmente ha una parente in linea diretta con il diabete. Quindi stasera stiamo facendo passare la teoria che un'alimentazione prevalentemente a base di cereali porta al diabete. Sì, sì, ma questa non è la teoria, è la certezza assoluta. È la certezza assoluta, solamente che c'è un grande allevamento di diabetici in Italia. Perché quando si alleva un diabetico da piccolo, quello è un cliente in eterno, finché scampa, del sistema sanitario nazionale o sistemi sanitari privati, per farmaci, prestazioni sanitarie, che avrà problemi quella persona alla vista, alla circolazione, ai reni, alla microcircolazione. Quindi è un buon allevamento. Non si possono perdere clienti. È tremenda questa cosa. C'è una telefonata? Un attimo. Ti arrivi. Sì, buonasera, sono Alba di Piacenza. Buonasera. Io volevo chiedere un paio di cose, se è possibile. Allora, innanzitutto io sono di gruppo A, RH positivo, e per cui volevo sapere gli alimenti che non dovrei mangiare. Signora, faccia una domanda specifica se ha determinate patologie. Se no dobbiamo fare... Il colesterolo e le trigliceridi. Alti. Sì, allora, se vuole i valori... Sta prendendo farmaci? No, assolutamente no. Niente. Quanti anni ha, signora? 51. Quanto è alto e quanto pesa? Allora, sono 60 chili e sono 1,65. Mi direi che è abbastanza in forma. Eh, insomma, c'è un 5-6 chili in più, insomma. Ma dottore, ma scusi, ma lei vuole le modelle, quelle anoressie? No, no, io non voglio assolutamente... Siamo contrari alle taglie 38, eh? Prima o poi bisognerà fare una trasmissione sull'anoressia. Ma no, ma no, ma dai. No, no, io voglio le... No, no, ma io dico, ma poi tanto, una persona, quando mangia correttamente... Ha il colesterolo, va bene. Signora, segua anche i nostri litigi, eh? Quando mangia correttamente il peso, uno non deve neanche... Non ha neanche l'assillo di pesarsi, lo vedrà dai vestiti che le cose vanno bene. Certo. Signora, il colesterolo è una molecola complessa. Che l'organismo... Ma quanto ce l'ha? Posso sapere, sono curiosa. Quanto è, signora, il suo colesterolo? Allora, 301. 301. Sì. E i trigliceridi quanto? 243. Quanto? 243. Guardi, i trigliceridi possono venire, nel suo caso, da carni rosse, da salumi, da fritti e soffritti, anche dall'extravergine d'oliva. Bene, sono contenta. Il colesterolo molto facilmente deriverà dai cereali, soprattutto i cereali col glutine. Ma anche da un eccesso di mais che lei può tollerare bene, lo può portare ad avere colesterolo alto. Il colesterolo, tutti dicono, non mangiate uova che contiene colesterolo. Sì, le uova, ma lei ne mangerà poco perché ha colesterolo alto. No, no, ma non lo faccio per quello, onestamente. Non ho questo punto di problema. Però poi si trova lo stesso colesterolo alto. Sì, in effetti, comunque la carne è alta. Ma se lei, signora, smette di mangiare tutti i cereali e mangia un uovo al giorno, le assicuro che il suo colesterolo va sotto i piedi. Perché il colesterolo è una molecola complessa che l'organismo, per sintetizzarla, la demolisce tutta quanta e la risintetizza in altro modo. Invece l'amido viene scisso e viene ricostituito a colesterolo. Questo è uno dei meccanismi del corpo umano. Ed è per quello che adesso si trovano bambini, ma è capitata una famiglia con un bambino che aveva 400 di colesterolo a 11 anni. Camminare tanto, signora, dovete capire che i cereali e i grassi, ma soprattutto i cereali, che sono loro che mandano su il colesterolo, invece i grassi, anche il burro le manda su i trigliceridi, ci stia alla larga, i grassi mandano su i trigliceridi. Bene, signora, io spero che abbia appreso qualcosa in più. Io ti dico solo una cosa, al posto dell'olio d'oliva, che olio posso usare? Nel suo caso, guardi, signora, ci va a nozze con l'olio di semi di girasole, ma un vero girasole, o con l'olio di semi di uva, il vinacciolo, che è il migliore in assoluto. Va bene. Buonasera, signora. E ne mangi poco. Certo. Lei ha un'età, signora, che si ricorderà che i suoi genitori andavano a comprare l'olio nei bottiglini piccoli, serviti con le oliere e segnati sui libretti. Va bene. E quello era un problema diverso. Poco olio? Poco. Perché? Perché è un prodotto concentrato, in natura, siamo gli unici esseri viventi ad aver bisogno di olio. Sante, adesso le confesso, dittore, che tutte le mattine mi prendo un olio particolare a digiuno. Sì. Perché ho letto che sostituisce l'olio di pesce. Sa che adesso va molto di moda le pillole di Omega 3? Ma da dove vengono? Come da dove vengono? Da che pesci vengono? Vabbè, però è un'arma potente adesso questa... Come sono allevati? Ma mangiamoci della buona frutta. Questa non è peregrina. Persone di gruppo A, mangiamoci al mattino come buon depuratore acqua e limone, acqua tepide e limone, che abbassa anche il colesterolo e riattiva il metabolismo. Vabbè, comunque questi oli che contengono Omega 3 e Omega 6, oli vegetali, eh, di canapa, di lino, di... Ah, io guardate... Fanno male? Ma io sono per le cose semplici. D'inverno sono per le noci, nocciole, mandorle, pinoli, semi di zucca, semi di girasoli, semi di lino. Questa è la natura messa a disposizione degli esseri umani. C'è la pubblicità. Un frutto e un po' di semi ed è una colazione strabiliante per le persone di gruppo A. Che bello. Ascolti, pubblicità, poi mi ricorderò di farle un approfondimento sul colesterolo perché mi interessa. No, no, stiamo deviando. Dobbiamo parlare delle malattie dell'inverno, se no la gente stasera non ha le dritte. Allora parliamo delle arance. Parliamo delle arance, ma dopo la pubblicità. Cosa fare per stare bene d'inverno, non avere tossi, catarre, bronchiti, broncopolmoniti, sinusiti, otiti? Dopo la pubblicità parleremo di arance, mandarini, bergamot, ci mettiamo dentro tutto. Pubblicità. Siamo tornati in studio. Io prima di riprendere col dottor Morsi, parleremo anche dell'alimentazione dell'inverno, è la stagione giusta per parlarne. A me viene in mente quando parlo di natura, parliamo di natura, eccetera. Io non posso non ricordare, lasciamelo dire il nostro Sandro, che con la natura ha sempre avuto a che fare, con il suo modo, con il suo stile, ma non c'era nessuna delle sue trasmissioni che prescindesse dalla natura, da quelli che a lui a volte sembravano gli occhi di un bambino, lo stupore della natura, delle cose normali che ti faceva vedere che non erano normali. Noi abbiamo una nostra ospite stasera, anche lei seguiva tanto Sandro, voleva dire una cosa per lui, un ricordo. Noi avremo una serata, eh. Poi faremo davvero, io e Antonello una serata proprio su Sandro. Dimmi tutto. Posso parlare? Sì, provo a vedere se il microfono è acceso, tienilo molto vicino. Buonasera, io sono Maria Grazia Dossena. Ho scritto diverse pubblicazioni su Sandro Talamazzini. Sono molto grata a lui perché mi ha appassionato con le sue trasmissioni. Il mio pensiero di questa sera mi porta a riflettere sulla natura, su come la stiamo interpretando questa sera, benefica e salutare sia per l'anima che per il corpo, nei suoi impieghi e nei suoi scopi. Un pensiero mio, nostro, di tutti, sicuramente a Sandro Talamazzini, alle sue teorie, a questa serata che sicuramente avrebbe apprezzato e condiviso. La natura l'ha trattata più volte nelle sue trasmissioni, in tutte le sue sfumature, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista ambientalistico. Ricordiamo, Sandro, tutto quello che hai fatto per noi. Grazie per tutto quello che hai fatto. Ringraziamo anche noi. Ti vogliamo bene e ti ricorderemo per sempre. Ringraziamo anche noi per il tuo ricordo. Grazie a tutti che mi avete permesso questa manifestazione di affetto. Grazie veramente. Eravamo tutti legati a Sandro, ci manca dell'altro. Io mi commuovo ancora adesso, quando ne parlo, figurati. Però torniamo all'argomento nostro, pregnante. Io prima avevo detto con l'estero, ma ci arriviamo, perché comunque parliamo invece di questa alimentazione legata all'inverno. C'è un'abitudine, no? Io mi ricordo quando uno era ammalato all'ospedale gli portavano le arance, anche in galera. Però dico all'ospedale portavano le arance, no? Le arance in galera. In genere si dice una bella spremuta, no? Eh sì, è un classico. Ti fa bene, ti dà la vitamina C, a parte il fatto che mi sembra che per fare la vitamina C che c'è in una pastiglietta ci vuole un vagone ferroviario di arance. No, ma al di là di quello, è vera questa cosa? Non è vera? Un attimo solo, mozzo intanto non ha bisogno di riflettere per rispondere, però abbiamo una telefonata, così magari uniamo cosa a cosa. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Ci chiama da? Castiglione delle Sidiere, Mantua. Che bel posto. Io sono una paziente del dottor Mozzi e volevo appunto dirlo pubblicamente che io da giugno ero andata a Piacenza, dottor Mozzi, poi l'ho chiamata qualche sera fa anche, non so se si ricorda, da Castiglione. Siccome ero venuta da lei un sei mesi fa perché io soffrivo molto di cefalee e grazie all'alimentazione che mi sono messa a Pignola, io le cefalee che avevo una volta me le sono dimenticate. L'avevo chiamata qualche sera fa perché adesso ho un po' di gastrite, lei mi ha corretto un po' nell'alimentazione ancora, cioè mi ha tirato un po' le orecchie perché mi ha chiesto ancora cosa mangio, colazione e così. Insomma vado meglio, ecco. Perché qual è il suo peccatuccio? Ma guardi, io i peccati li avevo prima di andare da Stor Mozzi, adesso faccio solo penitenza, però insomma mi trovo mica male. E mi ha tolto tutti i latticini e tutti i cereali, però mi sono rimaste ancora tante cose, tipo frutta, verdura e carne, però mi trovo un po' male ancora al mattino, dottor Mozzi. Io al mattino la colazione ero abituata con i biscotti e invece no, ecco. Quindi niente, io adesso però ho un po' di raffreddore, dottore. Non lo so se l'ho preso dal mio nipotino che porta all'asilo e quindi me lo porta a casa il raffreddore. Ma no, non sono i nipotini. Lei dice di no. Ma si può vivere vicino a una persona con il raffreddore senza prendere il raffreddore. D'inverno bisogna stare attenti anche alla frutta e ai liquidi, perché basta le persone sensibili, sensibili al fruttosio, se mangiano un po' di frutta in più vanno incontro al raffreddore. Anche quello? Ah, guardate, d'inverno la frutta non è un caso che a queste latitudini non la si trova sulle piante. Si trovano solamente quelle stupende bacche di rosa canina, che sono proprio un giacimento, una miniera di vitamina C, che noi lasciamo agli uccelli. Ma invece, d'inverno, sono più importanti le verdure che non la frutta. La frutta ce n'è tanta d'estate, perché d'estate c'è caldo, quindi la frutta è ricchissima di zuccheri e ricchissima di liquidi. Quindi il raffreddore io non l'ho preso da mio nipotino? Ma no, ma no, non dia la colpa al povero bimbo, no, no, no. Signora, quando si hanno i raffreddori ci si mette a mangiare proteine e verdure. Si dimenticano gli zuccheri, si dimentica anche la frutta e si beve l'essenziale. Io uso il miele adesso, invece dello zucchero. Eh, signora, no, 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 poco miele. Le lo dice uno, guardi, che sono allevatore di api, quindi guardi, sono proprio uno che mi do una zappata sui piedi a dire che anche d'inverno anche il miele può creare dei problemi. Allora lo zucchero di canna invece di quello bianco? Poco, signora, poco. Poco, poco. Ho appena parlato che i popoli dell'estremo nord del pianeta, per resistere a quelle temperature, mangiano carne cruda, pesce crudo, bacche e radici. Carne di foca. Sì. Perché io peso 52 chili, eh. Va bene. 1,65. Va benissimo, signora. Eh, lo so, me l'ha detto al telefono, però. Che Bresilasi, eh, che ha dominato per dieci anni i 5.000 e 10.000 metri, vincendo più volte gli ori olimpici. Un uomo di 1,70, il peso forma era 49 chili. Beh, insomma, guardi che. Che antilope, che antilope del deserto. Vabbè, allora mi togli anche... Mi togli anche della savana, del deserto proprio. Grazie, signora. Mi togli anche il miele, allora. Sì, stia attenta, signora, al miele. La colazione è un momento... Un po' così, ma gli zuccheri, veramente. Non è un caso che in natura gli zuccheri ci siano sulle piante quando c'è molto caldo. Gli zuccheri cominciano naturalmente con le fragole che sono molto acidule, ne hanno poche, le ciliegie ce ne hanno di più. Poi si finisce, si arriva al culmene dell'estate con i frutti proprio che sono dolcissimi. Dottore, lei mi ha fatto fare spesa, poi ha deciso di non utilizzare niente. Non ha importanza. Io ho fatto una spesa corretta. Tra le varie cose che ho preso, anche una marmellata di rosa canina. Perché ricordavo che lei aveva sottolineato quanto la rosa canina fosse potente. Le bacche di rosa canina, noi veramente andiamo a comprare le arance, non ce l'ho con i siciliani e i calabresi che coltivano arance, per l'amor del cielo. Ma l'arancio, tra l'altro, tra tutti i frutti è uno di quelli che veramente è più indigesto e indigeribile e che dà più problemi immunitari. E tante, tantissime tossi secche, già che siamo sulle patologie respiratorie, cominciano facilmente a novembre con l'arrivo massiccio delle arance e finiscono a marzo. Come tanti periartriti alle spalle o tanti problemi di cervicale o problemi alle caviglie, cominciano casualmente con l'arrivo delle arance e finiscono casualmente con la stagione in cui praticamente non si mangiano più le arance. State attenti e soprattutto a saper distinguere le tossi da tossi secche in cui c'è proprio una reazione immunitaria di alimenti che non contengano grassi o zuccheri come può essere ad esempio gli amidi dei cereali o i grassi e gli zuccheri del latte. Quando ci sono tossi secche lì c'è l'interessamento proprio di elementi che hanno un bassissimo contenuto di amidi, poche niente e soprattutto un basso anche contenuto di zuccheri. Lei prima dottore ha detto una cosa sulla quale non riflettiamo mai abbastanza, la modernità, i tempi moderni, le abitudini moderne ci hanno tolto proprio il rapporto con la natura. Cioè una volta non si conservava, non si poteva conservare e soprattutto non si produceva in modo artato. Per cui la frutta c'era nella stagione giusta, la verdura nella stagione giusta e questo già di per sé era una regola per cui l'organismo sicuramente si nutriva di quello che c'era. Poi è vero le serre, la forzatura, noi adesso abbiamo la stessa frutta in tutto l'anno, 12 anni, la stessa verdura. Le mele raccolte a cerbe a settembre e uno le mangia a luglio. Certo, e questo poi vuol dire conservanti, strumenti, eccetera, eccetera. Questa è una delle cause, possiamo dirlo, non questo? Sì, sì, senza dubbio. E questo mi permette di legarmi a questo qui. Questo signore, un giovane di 28 anni, parla di un male che un tempo era considerato il male, io lo ricordo, della gente che stava bene, non la gotta. I contadini che lavoravano e mangiavano non avevano gotta. Lui dice, sono un giovane di 28 anni, soffro degli attacchi di gotta, gli unici esami che ho fuori norma sono l'udicemia, e vorrei vedere, mi sembra che sia molto legato, e l'esame emocromo citometrico. Da un paio di mesi sto attento all'alimentazione, escludendo totalmente latte, latticini e glutine, eppure da 15 giorni sono convolescenti da un ultimo attacco di gotta. Probabilmente in questo caso sarebbe la carne da eliminare, o no? Ah, per la gotta bisogna intervistare la persona e sapere che abitudine alimentare ha. I reni, che sono i responsabili delle nostre eliminazioni di eccessi di acidi urici, che si derivano dal catabolismo, dalla distruzione delle proteine che vengono scartate e tutto quanto, ma i nostri reni funzionano a proteine. I reni sono un ammasso di proteine e funzionano bene se vedono le proteine, perché sono preposti proprio a eliminare i cataboliti delle proteine. Ma il rene, se vede i cereali, soprattutto i cereali con il glutine, il rene va in crisi nera. E' per quello che ci sono persone che hanno problemi renali, che subito gli viene detto dalla medicina ufficiale, la smette di mangiare proteine e lì comincia il grosso guaio. Invece lui ha eliminato latte, latticini e glutine, quindi sembra... Abbiamo una telefonata, dottore. Pronto? Buonasera, dottore. Sono Giovanni, chiamo la Barescia. Buonasera. Buonasera. Allora, gruppo sanguigno 0, fattore RH positivo. Allora, mi ritrovo a essere un buon sportivo che gioco quattro volte a tenere la settimana, però ho i tre gliceri di A638, come se li fabbricassi, e la glicemia purtroppo è A134. Mangiatore di carne rossa e amo il vino rosso. Formati latticini non mi interessano. Oh sì, ma anche pane e pasta, soprattutto a cena, lei li mangia, sa? Pasta, non mi interessa. E un pochino più il pane, quello sicuramente. Ma se lei giocasse la partita a tennis dopo cena, avrebbe la glicemia perfetta. Il fatto è che lei mangia... Quanti anni ha lei? 45. 45. Siamo giovani per avere la glicemia a quell'età lì. È per quello che l'ho chiamata. Siamo giovani e soprattutto se... Ma vede, lei dice, sì, gioca a tennis quattro volte alla settimana, ma lei mangia tutti i giorni tre volte al giorno. E soprattutto quando una persona ha la glicemia alta, e 130 è alta, e si ricordi che il limite per la sua età dovrebbe essere sotto i 90, vuol dire che lei a cena, oramai, anche se mangia un panino, si trova al mattino la glicemia elevata. Lei a cena, si dimentichi i primi. Si mangi giustamente, guardi, qua ci sono i fagioli dell'occhio, stupendi. Quei fagioli dell'occhio se la cava. Si può fare degli spezzatini con i fagioli dell'occhio, o del pesce con i fagioli dell'occhio. Usi i fagioli dell'occhio, i ceci al posto del pane. Una domanda al volo. O usi gli azucchi, la soia rossa, questo, altro ottimo alimento per lei. La soia rossa, gli azucchi, sono prodotti validissimi. Ma se lei mangia dei cereali, del riso, che poi il riso è un indice glicemico elevatissimo, lei a cena li mangia e si trova al mattino con la glicemia così. Il metabolismo sta rallentando, raddoppi le partite di tennis. E soprattutto dopo cena. Mangi un po' prima, senza cereali, e tre o quattro chilometri di passo rapido e veloce. Ecco, una domanda al volo. Io avevo, come si dice, durante la giornata, visto che lavoro in ufficio, in negozio e tutto, anziché mangiare i creches, i glicini e tutto, è molto meglio un frutto tipo una pera, qualcosa del genere, piuttosto che quelle sostanze lì da brioche, cappuccino e robe simili che si prendono durante il giorno? Eh, esatto. Ma meglio di tutti, guardi, un poco di ceci e una scatoletta, guardi, se vuole cucinarseli lei, bene, ma se non ha tempo o se non ha nessuno che può fare le cose per lei, prende una scatoletta di ceci al naturale, se li prende biologici meglio ancora, si prende una scatoletta di sgombe al naturale, scola il tutto, unisce il tutto in una vaschetta, se li porti in negozio, si porti un cespo di radicchio, rosso o di treviso o di chioggia o variegato di Castelfranco, o meglio ancora la cicoria belga, quella specie di cono dalla costa bianca e le foglioline gialline, e lei ha fatto un pasto stupendo, non torna neanche a casa a pranzo, continua a lavorare felice e contento e avrà le glicemie perfette. Ecco, l'ultima cosa... Nel posto dei cracker si mangi la farinata di ceci, che è meglio, coperta di pinoli, Noi l'abbiamo comprata. Coperta di pinoli, dov'è che troviamo? La farina di ceci. No, è l'altra, la vedo da stare qui. Farina di ceci, coperta di pinoli, si faccia piuttosto che no al mattino per colazione, invece dei cappuccini si mangi la pattona, o il castagnaccio, buonissimo, coperta di pinoli, di noci, strabiliante e di rosmarino, come pane, usi quello. La farinata coperta di rosmarino, tipico della ligura. Allora, in sostanza facciamolo strano, facciamoci in casa tutte le cose un po' strane, però avete visto dalle immagini, vengono bene poi. La cosa più importante è quello che noi buttiamo dentro a contatto con il nostro sangue, non possiamo continuamente e costantemente delegarlo a chi, sì, ci sono le persone brave, le persone oneste, ma in fin dei conti tutti cercano di portare a casa una bella pagnotta, nel senso di il denaro necessario, indispensabile, anche a volte molto di più. Per cui può passare in secondo piano la qualità. Per cui imparate a gestire per vostro conto l'alimentazione. Come è sempre stato, la gente fino agli anni 50 andava a comprare le cose sfuse, poi se le cucinava a casa, tutto si facevano da sé. Un'ultima cosa, vi hanno magnificato i semi di Alfa-Alfa, di erba medica, da mettere con tutto. Sono validi, ancora mi consiglia. Ah, guardi, se vuole avere dei problemi seri, lei con l'Alfa-Alfa ha dei seri problemi. Per Alfa-Alfa si intendono i semi dell'erba medica. Bravissimo. Per qualcuno può avere dei buoni giovamenti, lei ha sicuramente dei grossi problemi. Mi ha fatto meno a prenderli. Ceci, 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 ceci. L'aloe, vi dicono che l'aloe fa benissimo, è eccezionale, è tutto. Costa una cifra, però mi ha detto che è eccezionale. La vuole provare? Se lei la vuole provare, domani mattina si prende un cucchiaio di aloe e poi lascia decidere al suo stomaco i calcetti che le comincerà a tirare. Benissimo. Però qualcuno fa bene l'aloe, dottore. Sì, Antonella, le persone di gruppo A può fare dei miracoli. E infatti nell'altra trasmissione avevamo parlato di quella suora che non sono ancora riuscita ad avere un contatto con lei e col medico che si occupa di lei qua in Italia. Di questa suora che in uno stato africano, non so, nel Niger forse, aveva guarito proprio, guarito clinicamente un sacco di persone colpite dall'AIDS. Io però le ho portato il dossier di quei medici del Sudafrica che rivoluzionano la teoria sull'AIDS. Oh sì, l'AIDS. Sarà la scoperta di un grandissimo imbroglio planetario proprio. Eh, se ne sta già parlando di questo. Ultima telefonata. E scopriranno che l'AIDS si diffonde lungo le vaccinazioni che indeboliscono le difese immunitarie, ma soprattutto lungo il cambiamento alimentare dei popoli africani, con latte artificiale e con la farina al posto del miglio. Ho già letto qualcosa anch'io di questo genere. E scopriranno perché crollano le difese immunitarie di quei popoli che invece erano stati programmati per mangiare altri cibi. Eh, abbiamo una telefonata. Ultima telefonata. Guarda l'orario, siamo proprio al pelo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Chiamata. Buonasera, 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 chiamata. Volevo dire grazie al dottore perché lo seguo sempre e ho eliminato le cose che dice lei e non grato più perché mi notavo sempre. Da dove ci chiama? Mi chiamo Maria. E ci chiama da dove? E chiamo da Bergamo. Sono, ho 69 anni e sono alta 1,58 e peso 56 kg. Beh, insomma. Ecco, però io ho adesso un po' un problemino che ogni tanto svengo, non so il perché. Allora sono andata all'ospedale, mi hanno fatto la radia, cioè mi hanno fatto quello del cuore. L'elettrocardiogramma, signora. Ecco, sì, mi ha trovato un'ischemia perché mi sento male come il nostro presidente. Come il nostro, come Berlusconi? Sì, Berlusconi. Ah. Ok, signora. Che ora gli vogliono mettere il pacemaker. Ma lei tiene frequentemente dei comizi, signora. Gli vogliono mettere il pacemaker. Signora, lei deve capire che quando le vengono quei fenomeni c'è stato un blocco della digestione. E le ischemia possono scattare anche rapidissimamente. Per cui lei cerchi di scriversi bene quando le succedono quei fenomeni che cosa lei ha mangiato. Se lo chiedevano anche a Berlusconi e Silvio avrebbero capito la causa di quel suo malore. Invece adesso lo porteranno ad avere dei trattamenti più o meno... Gli mettono il pacemaker. Ma basta vedere il viso di Berlusconi per capire quali sono i suoi problemi. E' che Berlusconi copre sempre il suo viso con montagne di cerone per cui non fa vedere lo sfogo... Questo mi ricorda un po' la di Tizzetto. No, 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 calma. Ieri, ieri hanno ripreso Berlusconi senza nessun trattamento del viso. E aveva il viso butterato da un sacco di eruzioni cutanee. Quello non è malignare. Per l'amore del cielo, questo che io sto dicendo può essere, se qualcuno l'ascolta e che gli vuole bene, che gli può essere di grande, grandissimo ausilio. Perché se no andrà incontro a dei bei problemi. Non si risolve nulla con i pacemaker. Non si risolve un bel niente. Bisogna capire perché, e il capire, il perché voleva dire andare a vedere lui quando è stato, gli è successo domenica, questo fenomeno. Bastava andare a chiedergli lei che cosa ha mangiato a pranzo, signor Berlusconi Silvio. Bene, tutte indagate. E capivano che lì c'era stato un blocco della digestione. Tutto lì. Quindi anche lei, signora, sicuramente le si è bloccata la digestione, quando ha quei fenomeni lì. Ho capito. Ma lo stesso, ma tante altre persone, adesso è successo perché a Berlusconi le è venuto così. Ma infatti in quel suo sfogo della cute, che non c'è, per l'amore del cielo, lungi da me la storia di Malignà, è la possibilità di capire, attraverso uno sfogo della cute, che lì ci sono delle tossine che vengono introdotte spesso e volentieri, quotidianamente. Deve essere anche una buona forchetta, eh? Non so, ma quello non so. Salutiamo la signora, le facciamo tanti auguri. Il caso di un'altra persona, come Umberto Bossi, con il dramma che sta vivendo, che ha vissuto. Ma lì è stato essere giocato tutto con il cibo, che poi hanno bloccato gli sfoghi con i farmaci e lui è andato avanti a introdurre del cibo. E tuttora va avanti a introdurre del cibo, se no potrebbe avere, il povero Umberto Bossi, potrebbe avere dei miglioramenti strabilianti. E io, nonostante sia lontanissimo dal suo modo di pensare, di concepire le cose, su altre magari posso anche concordare, ma soffro quando vedo una persona così come lui, importante come lui, di un valore pubblico come lui, conciati in quel modo lì. Quando potrebbe veramente avere dei miglioramenti strabilianti. Dobbiamo concludere. Sì, se sono una domanda secca risponda seccamente. Ce ne sono altre. Io volevo parlare e dare alcuni suggerimenti su quali rimedi usare, proprio una carrellata anche sugli alimenti. Lo facciamo per chiudere, però c'è una domanda. Questo signore ci dice, la birra è una bevanda che se bevuta, lui dice, ne beve due litri al giorno, può dar problemi. Grazie. Non dice che sangue ha? No, non dice niente. Se ad esempio una persona, a parte che poi bisogna vedere che birra è, è una birra che è grado alcolico, è un'alcolica a 4 gradi e mezzo, a 9 gradi, è un doppio malto, è derivata dal frumento, è derivata dall'orzo, è derivata dal riso, è derivata dal maes. Generalmente la birra contiene glutine, però. Se è una birra di gruppo A, ci lascia la prostata, prima o poi, e ci lascia lo stomaco. Se è una persona di gruppo 0, dipende, ma non c'è nessuno che tollera due litri di birra al giorno. È impossibile tollerare due litri. Però i tedeschi quando bevono birra poi dicono, ah, birre, schonghette, cioè, che ne va via la metà subito. Dipende, dipende. Ad alcuni sì, ad altri no. E poi bisogna vedere il volume addominale dei tedeschi bevitori di birra. E poi bisognerebbe seguire la storia delle persone. Perché tutti dicono, ah, ma guarda, bevo birra e sto bene, aspetta un attimo. E poi vediamo cosa succede. A parte che poi dietro c'è anche la programmazione genetica di una persona, perché ognuno di noi è programmato per campare un tot. Poi può campare bene quel tot. Può campare male, può campare molto meno. Tutto lì. Questo è un grosso... Allora, siamo a fine trasmissione. Cinque minuti di trasmissione. Allora, un po' di consigli. Consigli. Parli pure a rossa libera. Meglio i legumi, meglio i legumi dei cereali d'inverno. Per legumi si intende. Non i legumi, ma la francese, che sono gli ortaggi per noi invece. Vuol dire lenticchie, validissime per le persone di gruppo A, che possono essere le lenticchie decorticate, ottime, che tra l'altro queste cuociono rapidissimamente. Ma possono essere anche le lenticchie, quelle verdi o dalla buccia marroncina o quelle di Castelluccio. Che sono buone, tra l'altro. I fagioli, però le lenticchie sono ottime per il gruppo A e il gruppo AB. I fagioli dell'occhio, stupendi proprio, per il gruppo A, zero e stop. I cannellini, validi universalmente. I piselli, validi universalmente. Poi ci può essere qualcuno che non lo tollera, come ci sono sempre le mosche bianche. Così. Poi ci sono i borlotti, ottimi per le persone di gruppo AB e gruppo B. I bianchi di Spagna, stupendi, più fini, più buoni anche, ma veramente stupendi e validi per le persone di gruppo B. Ottimi. Un po' di tonno, per le persone di gruppo B o di sgombri. Un po' di bianchi di Spagna, un po' di cipolla rossa di Tropea hanno fatto un pasto sublime. Un cespo di insalata sono a posto. La soia, soprattutto la soia rossa, tra l'altro sono fonte di grande quantità di proteine. Per le persone di gruppo zero io sponsorizzo sempre i ceci sotto tutte le forme. Dalla polenta alla paniscia poi saltate in padella genovese, dalla farinata di ceci, dal purè lumus. Questo sì, vero cibo mediterraneo, lumus, il purè di ceci. Non combinate i legumi con i cereali, se no la pancia gonfia. Non combinate i legumi con i latticini, se no avete grossi problemi addominali. C'è il detto a Venezia che l'unico doge a cui mi hanno tirato il collo era perché combinava il formaggio con la pasta e i fagioli. E poi, attenzione, cercate di avere un'alimentazione molto equilibrata. Non è vero che serve la frutta d'inverno, non è vero. D'inverno servono i semi oleosi, il metabolismo rallenta, le giornate sono più corte, bisogna mangiare un poco più di grassi, invece che gli zuccheri, quindi semi oleosi, mandorle e noci che vanno bene universalmente, arachidi per il gruppo A e il gruppo AB. Un frutto e un po' di noci può essere una colazione ottima, valida, che equilibria gli zuccheri con i grassi e con le proteine. Le castagne sono ottime, non combinatele, ci sono anche le castagne secche, al posto dei cevingum usate le castagne secche. La vecchia castagna secca da tenere in bocca a macerare, stupenda. Non vi danneggia assolutamente. Quelli che si chiamano in italiano ciuccaroi. I ciuccaroi ma spaccano i denti, dottore. No, si succhiano. Tenere per macerare. Sì, fino a quando è diventata molle. Poi ci sono, ad esempio, d'inverno invece che le arance che danno grossi problemi, tranne le persone di gruppo B, mangiatevi, se volete, mangiatevi il pompelmo, mangiatevi il limone. L'ananas quando è ben matura, che non sia altamente tossico dalla conservazione e chissà dove, e chissà come. Eh sì, perché quelli arrivano dall'Africa e non si sa quanti... Se volete dei dolci, ricordatevi, la marmellata di rosa canina e la marmellata di ribes nero, che sono due piante, due bacche stupende per l'inverno. Ribes nero e rosa canina. Sono stupendi doni della natura, soprattutto la rosa canina. Ma dove la spalmiamo sta marmellata? Sulle crepe di uova. Ah, quelle famose crepe che abbiamo visto prima. Crepe, la colazione stupenda per l'inverno, crepe sottilissime di uova, come fa tutto il resto del pianeta. Mangiate uova, non andate su né di colesterolo né di peso, un velo di marmellata o di miele, per chi proprio vuole, o un tè verde, o un caffè, o una camomilla per chi vuole, o una tisana per chi vuole, oppure sulla ricotta. Ricotta, ecco io vi devo crepe, ricotta e miele, ricotta e marmellata, è una colazione stupenda, a parte le persone di gruppo zero, ottima. Non mangiate le ricotte stracariche di panna, di mascherpone, quelle grassissime, ma la ricotta magra, semplice, scovate dei produttori bravi, familiari, che fanno delle ricotte come una volta. Quindi un po' di ricotta, un po' di formaggini questi qui magri possiamo mangiare. Ma non esiste il formaggio magro, cosa dice lei? No, ma esiste, esiste, in percentuale, quelli che sono ricchi di siero sono magri, sono magri. Un po' si tolera. Allora, buon senso in tutte le cose e... Tenetevi a portata di mano a determinate rimedi, sempre, che non manchino mai d'inverno. Vediamoli di corsa. Se il problema dell'apparato respiratorio vada sul sito di Mogliazze, che magari si viene messo in www.mogliazze.it, e lì c'è un ottimo, nel reparto salute, c'è una scheda dove si tratta il lavaggio del naso, che per le persone che hanno problemi di sinusite, di otite, è un rimedio eccezionale per proprio far spurgare i sieni nasali, i paranasali, le cavità nasali, dall'eccesso e dal ristagno di muco. E risolvete un sacco, e non andate incontro a un sacco di otitti e di sinusite. Quindi è un'operazione che si può fare a casa sempre. Stupenda, acqua e sale, non serve l'acqua marino di chissà quale termine. La comunissima sale marino. Va bene. Tenetevi a portata di mano. Allora, ecco, forza, qualche fitoterapico. Ribes nero, rosa canina, le chinaccia per le persone che non siano di gruppo zero. Quindi ribes nero, universale, rosa canina, universale, e chinaccia no per il gruppo zero. Tenetevi a portata di mano per le tosse e per i catarri, l'enula, che è strabiliante, è una radice di una pianta eccezionale, il timo e l'elicriso per le forme polmonari, sono dei regali eccezionali della natura. Sono tinture madri quelle lì? Sono tinture madri. Fantastici rimedi, però capiate da dove hanno origine i vostri catarri. Questi vi daranno un aiuto eccezionale. Se mi è consentito volevo dire due cose, perché poi vedo che le persone mi tempestano a casa e poi allora addio. Io do i numeri perché non riesco a passare neanche la notte e non riesco a dormire. Io sono presente in determinati punti della Lombardia. Uno è Ramonza, che ne avevamo parlato la volta scorsa, dove c'è un mercatino biologico la quarta domenica del mese. A dicembre verrà anticipata la terza, perché è la quarta. L'altro è Pavia, che è la prima domenica di ogni mese, tranne gennaio. E l'altro è a Piano Gentile, nella zona di Como, Varese o Nord Milano, che è la seconda domenica di ogni mese. Sono sempre disponibile a dare delle dritte e lì le devo dare rapide e veloci, come qua. Però può già servire per avere una possibilità di capire la causa dei propri problemi. Ma metteteci tanto impegno. Dubitate, dubitate, dubitate di quello che dico, ma dubitate e mettete tra le cose possibili che le vostre patologie hanno origine dal contatto immunitario di un cibo sbagliato. Ecco, noi ricordiamo il www.mogliazze.it, l'ho capito giusto, lo ricordiamo. Chi non l'ha può contattare anche noi, che glielo diamo sicuramente. Penso che abbiamo finito. E ricordatevi, per le persone, l'ultimo punto, perché abbiamo parlato di certi tumori, non quello delle vie respiratorie, che era l'argomento di stasera. Ci sono più tumori nelle persone che non fumano, e io sono contrario al fumo comunque, però per correttezza lo devo dire, perché tutti smettono di fumare, anche i fumatori che hanno il tumore, e non guariscono dal tumore. Ma la causa del tumore è ben altro, ed è in qualcosa che noi non introduciamo nell'apparato respiratorio, ma che noi introduciamo nell'apparato digerente. Ma i polmoni, quando vedono qualcosa di sbagliato nello stomaco, protestano vivacemente, se quelle persone sono programmate per avere il punto di protesta nei polmoni. Quindi, dubitate di queste cose. Mi ricorda certi principi dello sciazzo, dottore, che è una giornata così. Con un argomento da aprire, sicuramente. Sì, un argomento, Antonella, perché i tumori al polmone sono in netta espansione. E soprattutto nei non fumatori. Benissimo, abbiamo finito. Ora ci sfumano la sigla, appuntamento con Box fra una settimana, sempre in diretta con il dottor Mozzi, troveremo e scoglitteremo la possibilità di averla qui ancora. Un saluto a tutte le persone, grazie che ci ascoltate. Ci vediamo comunque la settimana prossima, no? Sì, sì, sì. Benissimo. Con il dottor Mozzi prestissimo. Grazie ancora anche al nostro mini pubblico della serata che ci ha confortato la loro vita. Arrivederci a tutti, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.